Giornata concitata, quella di ieri, sulla normetta furbetta degli 84 milioni per la Croce Rossa che conte la vista, poi è successo un patatrack politico, il Movimento 5 Stelle ha chiesto le dimissioni di Garofali, che sarebbe il capo di gabinetto del Ministro dell'economia Tria, che sarebbe quello che ha messo la norma senza che nessuno lo sapesse, Tria lo ha difeso, ha difeso anche la norma dicendo che serviva per pagare le liquidazioni, ieri già vi ho ricordato la famosa lettera dell'Inps che chiedeva dove sono finiti i 90 milioni per i TFR, l'Huffington Post, la prestigiosa attestata online radical chic internazionale ha detto che non solo Tria difende Garofali, ma dice che se si dimette Garofali si dimette anche lui, poi però una vocina dice va bene, sacrifichiamo Garofali, teniamoci Tria, insomma tutto questo intorno a questa faccenda della norma che Tria ha difeso tanto, dimenticandosi che c'è un parere dell'avvocatura dello Stato su richiesta dell'ente delle Sacri, dell'ente della Croce Rossa, questa è la richiesta, questa è la risposta dell'avvocatura dello Stato che sostanzialmente dice che non rientrando in un credito privilegiato quei soldi non si possono dare, lo dice a prescindere perché esisteva già questa norma, perché è data questo parere dell'avvocatura dello Stato che è del 12 giugno 2018, quindi già in quel momento si sapeva che quel credito non era possibile sanare, perché non rientra tra quelli privilegiati, quindi questo è dal punto di vista tecnico politico, la realtà è che è stata infilata da una manina una bella cifra consistente di denaro pubblico e che ha dimostrato quanto è diffusa e potente ancora la rete di Francesco Rocca, è potente nei palazzi che però in qualche modo sta saltando, perché addirittura a quel livello di prestigio burocratico di Stato, è potente nei media, se facciamo eccezione per il Fatto Quotidiano, in parte per Libero e per Luffington Post che a suo modo è intervenuto per Affari Italiani, adesso so che ci sono anche altre testate interessate perché mi hanno contattato, ma voglio dire io non ho sentito, non ho letto una riga sul Corriere della Sera, non ho letto una riga su Repubblica, non ho sentito dire niente da, non so, nei talk show tipo quello di Floris e mi chiedo come mai, questo fa poi leva su il desiderio che hanno un po' tutti oramai, me compreso che salti questo cerchio magico al di là della Croce Rossa o grazie alla vicenda della Croce Rossa, anzi come giornalista devo ringraziare questi battaglieri aderenti, membri del corpo militare tra le Croce Rossine che stanno andando avanti senza timore, perché grazie a loro sta venendo fuori anche che cosa significa avere una rete nei centri di potere, si può fare qualsiasi cosa e nessuno ti viene a toccare.